Ciao a tutti da Carmine di Recensione Orologi.it Andiamo a conoscere insieme l'Essence 39 Questo modello è forse il più piccolo ma presenta le stesse finiture dettagliate dell'Essence originale Abbiamo sulla cassa una bellissima alternanza di finiture spazzolate e lucide Con un'altezza di soli 10 mm questo orologio si adatta sia al polsino della camicia che all'abito da sera L'Essence 39 è alimentato da un movimento a carica automatica sellita SV200 Con una riserva di carica di 41 ore Ciascuno di questi movimenti è certificato COSC Grazie a importanti aggiornamenti e vengono sottoposti al meticoloso test di 15 giorni Per garantire livelli straordinari di accuratezza e precisione meccanica Questo particolare quadrante che riprende il nome dall'uva da vino Gamaretto è di colore marrone, rossiccio intenso Per dare ancora più profondità il quadrante presenta delle linee orizzontali firmate senza Ciascuna lavorata singolarmente a macchina nella base del quadrante per ottenere angoli perfettamente nitidi La data a ore 6 è in tinta con il quadrante Il bracciale in acciaio inossidabile riprende le stesse finiture impeccabili della cassa dell'Essence Ed è inoltre dotato di una micro regolazione nascosta Per avere maggiori informazioni mi invito a leggere l'articolo completo sul blog E a voi cosa ve ne pare? Vi piace?